Ben ritrovati, in primo piano la situazione difficile che si sta vivendo nella nostra regione per l'emergenza Covid, che sta provocando dei riflessi chiaramente molto negativi sull'economia locale. Il nostro ospite negli studi di Salerno è il sindaco di Minori Andrea Reale. Benvenuto sindaco e grazie per la sua disponibilità. C'è chiaramente da una parte la rabbia degli operatori turistici, dall'altra la speranza di poter guardare alla prossima stagione estiva con il cosiddetto Covid free, cioè con la speranza di essere tutti vaccinati e liberi da questo virus. Intanto partirei sindaco da questo video che ha fatto scalpore con lei che interviene per interrompere un picnic abusivo a Minori, un video che ha fatto discutere ma probabilmente la vicenda è stata rappresentata all'esterno in maniera strumentale. È rammaricato per com'è andata? Molte volte si fanno tante cose importanti di valorizzazione di beni culturali, di grosse opere di civiltà come una strada interpoderale, invece i media per un avvenimento del genere danno molto spazio, ma in realtà come ho detto già molte volte i 5 ristoratori e noi delle istituzioni vogliamo la stessa cosa, quella di riaprire e rilanciare nel caso della costiera amalfitana la costa di Amalfi sui mercati nazionali ed internazionali nel minimo tempo possibile, accelerando tutto, ma la metodologia è diversa. Noi lo vogliamo fare nel rispetto delle regole, i 5 ristoratori hanno fatto delle provocazioni al di fuori delle regole, ma le dico se avevano veramente i permessi per viaggiare in tutta Italia e si presentavano regolarmente al comando dei vigili, sarebbero stati autorizzati ad una manifestazione con i dovuti distanziamenti, facendo una diretta online, non c'era bisogno di mangiare prosciutto, pane, Coca-Cola, istigando il popolo e i cittadini che da più di un anno seguono pedisseguamente le regole stando a casa, questa è stata la motivazione del mio intervento, quello di difendere i cittadini che seguendo le regole ci stanno dando una grossa mano ad uscire dal coronavirus e i cittadini della costa da Marfi sono un esempio su questa tematica perché veramente anche in questo weekend di Pasqua hanno dimostrato serietà e soprattutto grande senso di responsabilità. Sicuramente i sindaci sono stati lasciati da soli ad affrontare questa situazione soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Covid, ma sindaco le chiedo intanto che c'è una situazione economica difficile ovviamente anche nella costiera amalfitana, gli operatori economici vivono una fase drammatica perché poi gli aiuti concreti non sono arrivati. Ecco questo è l'aspetto, è l'altra faccia della medaglia perché questa crisi si sviluppa su un binario, quella sanitaria principale, principale perché dobbiamo garantire il diritto alla salute, dobbiamo uscire da questo tunnel con un'attenta campagna vaccinale che noi stiamo collaborando tra le istituzioni per poter effettuare nel più breve tempo possibile, è una collaborazione continua con l'azienda ospedaliera, con l'ASL, con i COC comunali, con la protezione civile, io sono responsabile della sanità per la conferenza dei sindaci e il mio compito è proprio quello di coordinare queste forze e anche il volontariato che in questo momento ci sta dando una mano grossa. L'altra condizione è la crisi economica che ha messo in ginocchio la costa d'Amalfi, sapete che la costa d'Amalfi io sono prestato alla politica, sono un albergatore, un albergo a 4 stelle e quindi vivo sulla mia pelle, questa condizione di tante famiglie di stagionali che ricevono in ritardo la cassa integrazione, quindi un appello al governo, a Draghi di realmente considerare delle misure tangibili che si toccano con mano sia per gli addetti al turismo che per gli stessi imprenditori che sono fermi ormai da più di un anno. Per far questo dobbiamo tutti renderci conto che abbiamo bisogno di offrire una costa d'Amalfi, così come una regione campania, così come tutta l'Italia in sicurezza ai mercati nazionali, internazionali, europei ed extraeuropei. Per fare questo la prima cosa ce lo dicono i virologi, ce lo indicano tutti coloro che hanno approfondito questa condizione del coloravirus e quindi abbiamo bisogno di una campagna vaccinale molto estesa. A proposito dei vaccini, in queste ore c'è una forte polemica perché la regione ha deciso di partire, di dare priorità alle isole e invece i sindaci dell'Anci sostengono che bisogna avere la giusta attenzione anche verso le altre località turistiche della Campania. Voi della costiera amalfitana in questo senso vi sentite discriminati? Assolutamente no perché io sono il portavoce e come vi ho detto il responsabile della sanità dei 14 paesi della conferenza dei sindaci della costa d'Amalfi e stiamo agendo su due binari. L'Asla e l'Eusca stanno vaccinando nei tre centri vaccinali, uno nell'ambulatorio di Positano, l'altro nel comune di Maiori e annuncio dalla vostra emittente, giorno 9 si aprirà la terzo centro vaccinale della costa d'Amalfi in collaborazione con l'esercito al porto di Maiori. Quindi abbiamo questi tre centri vaccinali che andranno avanti con i vaccini, hanno finito adesso gli ultraottantenni, adesso con il Moderna devono vaccinare coloro che hanno chiesto il vaccino a casa perché sono allettati, hanno già vaccinato tutto il personale scolastico, si apprestano per gli ultrasettantenni e seguiranno quelle che sono le indicazioni del governo. All'Atere, sia i vertici regionali della sanità che noi sindaci e io in prima persona sono in contatto con l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona che ha una sua sede in Costa d'Amalfi, all'ospedale Costa d'Amalfi, proprio a Castiglione di Ravello, per poter considerare dal 16-17 di aprile in poi una campagna vaccinale per tutto il comparto turistico da Vietri a Positano, in modo che l'ASL continua le sue vaccinazioni per gli anziani e per tutte le categorie indicate dal governo. All'Atere, l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi, col suo direttore Vincenzo D'Amato, ci dà la disponibilità di poter vaccinare il comparto turistico per partire a fine maggio in una campagna e dichiarare al mondo intero che la Costa d'Amalfi almeno al 60-70% è vaccinata. Noi siamo 38 mila abitanti, abbiamo già vaccinato 5 mila persone, grazie anche alla collaborazione che ha dato l'azienda per gli ultimi ottantenti di alcuni paesi all'ASL. Quindi è un tutt'uno, siamo tutti nella stessa al barca direttore, questo è un momento dove le istituzioni, ma soprattutto chi è al fronte, la politica, i sindaci, i goc comunali debbono coinvolgere tutti, dal mondo del volontariato alle istituzioni sanitarie, ai comandi di vigili urbani che io ringrazio, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio i vigili urbani anche per l'accaduto che lei prima nominava, non sono stati trattati bene, c'è bisogno di rispetto, c'è bisogno di grande rispetto nel riconoscere lo Stato anche nelle piccole cose e questo è il mio compito, questa è stata quella forza che mi ha dato l'input per sottrarre tavolini e sedie da quel picnic per dare un esempio che lo Stato c'è, lo Stato c'è anche in un piccolo paese di 2800 anime. Certamente, intanto quindi penso che lei non condivida la protesta del Lanci rispetto alla decisione della regione di dare la priorità a Capri, Ischia e Procida che saranno covid free in tempi più brevi rispetto alle altre località turistiche della Campania. Io sono sempre in linea con le decisioni del Lanci perché noi ci troviamo molto bene, siamo collegati con una chat di WhatsApp, ci scambiamo giorno dopo giorno, ora dopo ora praticamente tutte quelle che sono le informazioni, le problematiche, le priorità, siamo ben rappresentati. Io credo che l'intenzione, cerco di interpretare l'intenzione del Presidente De Luca è quella di agire su due binari, se lo Stato italiano, il governo, l'unità di crisi nazionale gli fornisce i vaccini e gli sblocca anche la condizione del vaccino dove ha fatto i precontratti. quindi agire sui due binari, le ASL seguono l'indicazione giustissima di poter vaccinare per fasce di età e alcune categorie la regione, avendo una regione che vive di turismo e rappresenta direi tutta l'Italia meridionale per i grossi attrattori culturali, per i paesaggi che rappresentano delle suggestioni uniche nelle due coste, la costiera cilentana, la costiera amalfitana, quella sorrentina nelle tre coste, le isole, la grande storia di Napoli. Quindi abbiamo bisogno di un canale per poter far ripartire l'economia e dare anche una risposta seria a coloro che manifestano giustamente le condizioni di tante famiglie e di tanti imprenditori che sono in ginocchio per il Covid-19. Guardando alla prossima stagione, Sindaco, per chiudere questa nostra intervista, si parte dal Covid-19, ma anche dal passaporto vaccinale. Sono questi, secondo lei, gli obiettivi e questa è la strategia che può consentire al turismo di ripartire già dalla prossima estate? Io credo proprio di sì. La parola sicurezza è la parola principale per poter far ripartire un turismo che, parliamoci con dati reali, con i piedi per terra, come mi piace sempre a discutere e senza sognare, sarà un turismo come quello dell'anno scorso, un turismo vicinale, un turismo fatto da turisti delle altre regioni italiane. Ma inizieremo tra, credo, fine agosto, settembre-ottobre a ricevere anche quei segmenti di mercato europeo importanti per la costa d'Amalfi e ex europeo americani che hanno ricevuto il vaccino e il passaporto. Quindi dobbiamo prepararci anche a una destagionalizzazione nella speranza che questo virus scompaia e non abbiamo altre condizioni poi di emergenza nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Siamo una terra matura ma abbiamo bisogno di presentare comuni, spiagge, ristorazione, alberghi in sicurezza come è stato fatto per l'altra estate. Quindi un appello al Governatore De Luca, alla Regione Campania di imporre dei protocolli per quanto riguarda soprattutto gli arenili e il demanio marittimo in modo che si possa presentare ai mercati italiani ed esteri delle spiagge organizzate una costa d'Amalfi nel pieno rispetto delle regole. Speriamo che sia davvero così. Grazie al Sindaco di Minure, Andrea Reale, che è stato nostro ospite per questa rubrica di oggi. Io ringrazio in regia per noi Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.